Ciao a tutti! Dunque, mi trovo ancora ad Heidelberg e questo è quello che potete vedere al orizzonte. Prego, regia, faccia vedere. Io mi tolgo. Ecco, posso tornare? Ok, perfetto. Quindi io saluto tutti i miei hater che mi odiano e che mi mettono sempre i pollici in giù non sapendo che continuano a spammarmi. Anzi è meglio che... Niente, io vi ringrazio, vi ringrazio così almeno riuscirò ad ottenere il risultato che vuoi. Comunque, da queste parti c'è pure la statua di Bismarck e potreste anche imparare un po' di storia. E' un po' che sto facendo io. Per cui, non lo so, ve la consiglio. E' bellissimo e poi piena di storia. C'è ovunque qualcosa da vedere. Ieri siamo andati a vedere le rovine di un vecchio castello. insomma, oggi stiamo di nuovo salendo in quota. Ok, che sta dall'altra parte. Questo castello sta dall'altra parte. Esattamente là. E voglio dire, merita. E merita anche un pollice in su, vorrei dire ogni tanto. Però fate quel che tavolo volete. Non me ne frega. Comunque, io volevo dirvi che nonostante il fatto che qua sia bellissimo, come avete potuto vedere, comunque non è il paradiso. E' certificato. Siamo ancora sulla terra, crosta terrestre. e siamo un po' più a nord dell'Italia, ma neanche troppo. E quindi non è il paradiso. Toglietevi quest'illusione. Pure qui la gente fatica. Comunque, continuate pure a credere a tutte le palle che altre persone vi dicono e non me. Un bacione a tutti. E statemi bene.